la casa 2016 signori siamo qui con Renault chi è che non la conosce ovviamente la conosciamo tutti e siamo qui con Francesco uno dei responsabili della filiale di Napoli Francesco cosa ci fa Renault qui? Ci fa? Buonasera a tutti. Esponiamo qui Renault tutta la gamma sia di auto e velicoli commerciali con tante novità soprattutto siamo in esposizione con la nuova talisman che la presentiamo in questi giorni a talisman sporter e quindi un'occasione per mostrare al pubblico in un solo momento così importante tutta la produzione Renault. Ok perfetto quindi cosa possono fare i clienti quando vengono qui e hanno voglia di acquistare insomma un'auto? Siamo organizzati con due hostess sia per la raccolta e le informazioni e per poi fare preventivi e organizzare anche prove su strada. Ok signori allora vi raccomando venite qua avete questa occasione di provare le macchine Renault qui alla fiera della casa 2016 sono delle belle persone venite qua ci si fa una chiaccola si fa anche un preventivo se si vuole però non state bene a casa venite alla fiera della casa vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.